Si è tenuto a Procida su iniziativa della vicepresidente del Senato Mariolina Castellone insieme al professor Pasquale Tridico e all'assessore del comune di Procida Leonardo Costa Iola il cantiere delle idee. Attraverso l'ascolto del territorio e di quelle che sono le esigenze dei cittadini questo esperimento di democrazia partecipata ha aperto un importante tavolo di discussione, raccogliendo le testimonianze delle numerose associazioni, degli enti e di oltre 100 cittadini e attivisti presenti evidenziando secondo gli organizzatori tutti i rischi a cui i territori stanno andando incontro con il progetto di autonomia differenziata. I nostri microfoni, la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone e il professor Pasquale Tridico. Ascoltiamo. Il nostro cantiere delle idee ha tre obiettivi principali. Il primo è quello dell'ascolto, dell'ascolto delle persone che vivono sui territori. Il secondo è quello di creare una rete tra associazioni che operano sui territori, forum giovanili, i nostri gruppi territoriali e le istituzioni. Il terzo è quello di costruire proposte e progetti concreti che rispondano ai bisogni delle persone. Questo straordinario evento organizzato dalla vicepresidente Maddalina Castellone è di vitale importanza perché pone al centro di un'isola come Procida, comunque di un contesto come questo campano. Il problema delle autonomie differenziate è quanto gravose del nostro potrebbe essere per questi territori che in qualche modo sono dal punto di vista fasiagistico straordinario, ma ovviamente hanno delle fragilità, hanno delle necessità di investimenti.